Con tecnologie e abilità paranormali, lei mi prende in giro. Perché non sceglie di credere ai suoi stessi occhi? Quando guardai il film Essi vivono, i libri sullo sfondo catturarono la mia attenzione. Edgar Cayce, il profeta dormiente, credeva nell'esistenza degli Arcturiani, una specie extraterrestre umanoide altamente avanzata originata in un pianeta del sistema Arcturus. Edgar Cayce, oltre che essere un sensitivo e chiaroveggente e presunto taumaturgo, fu il confidente e psicologo e medico curante informale di Nelson Rockefeller. Anche Marilyn Monroe fece dei consulti. Con questo libro ci addentriamo in un tema molto controverso. Grazie. 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 Grazie.